Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio e cominciamo subito. Guardate che carina quando trema. Non è carinissima? Guardate come trema tutta. Ti piace leggere? Ho letto i paralipomeni dell'abattracomio-machia? Oh. Oh, si. Le bruciature tanto sexy. Si. Trema. Guardate questa gonna. Guardate, sta tremando tutta. Non ti preoccupare, non è che ti stalkerò. Ti seguirò ovunque. No, 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 anche in bagno. Soprattutto in bagno. Sì. Eh. Ah, sì. Guardate, la luce. Sto quadro di non si sa chi. I libri. Ah, ah. Trema, sì. Così, da bravo, sì. Trema, trema. 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 Ah. Tu lo sai che quando salverò tutte le tue immagini inutale userò per altri scopi? Sì, sì, che lo sai. Te lo leggo nell'occhio. Ah, sì. Ah. Tremi ancora, eh? Sì, devi tremare. Ti devi spaventare. No, non è vero, non ti devi spaventare. Perché ti voglio bene. Sei la ragazza che voglio mangiare. Mh. Mangiare. Tremi di più. Tremi ancora, credo. Sì, sì. Tremi ancora, sì. Oh. Sì, sì. Ah, questa è una bella sperchezza. Credo che potremmo rifarla. Arrivederci.